weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie weh bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo sbloccato la fase numero 5 di cuore nero proprio da pochi minuti ragazzi come vedete l'aura blu dentro la cassa toracica si comincia a vedere lo voglio vedere insieme a voi prot ottieni e chiudi ragazzi guardalo qua guardalo qua andiamo a vederlo andiamo a vederlo più da vicino ragazzi prot cialocchio che mi pulsa con il blu del non lo so di quella roba qua tipo l'anima che viene dentro barba con tanto di azzurro e come vi dicevo tutta la cassa toracica vediamo se le gambe no le gambe no è proprio la parte alta ragazzi direi che è veramente tanta tanta roba mi piace un casino cuore nero con questa prima versione voglio sapere se anche a voi ragazzi piace io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video volevo condividerlo con voi vi mando un abbraccio grande noi ci vediamo domani ciao